Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale, io sono Amelie e quello di oggi è il video degli acquisti del mese di giugno. Ho acquistato pochissime robe, quindi speriamo di far durare questo video meno di tre minuti. Partiamo subito dalla casa editrice per la quale ho acquistato meno roba, ed è la Magic Press, per la quale ho acquistato soltanto il primo volume di Electric Delusion, uno yaoi. Bellissima edizione. Poi la Planet, per la quale ho acquistato un volume solo as well, che è il quindicesimo di Takaneana, che il mese scorso mi ero dimenticata di recuperare. Scusate, c'è il mio dirimpetaio che mi guarda in casa, fa abbastanza ridere come cosa, ma fa troppo caldo per tenere le finestre chiuse. Comunque, per la J-Pop ho acquistato cinque volumi, il volume otto di Girl from the Other Side, il terzo e conclusivo di Maginal, di Moto Agio, pesa una tonnellata. Il volume unico dello stesso autore o autrice di Girl from the Other Side, volume unico che si intitola Wisdoms. In realtà io non ho una grandissima passione per i fumetti con personaggi antropomorfi, però in qualche modo devo superare questa cosa, quindi ho deciso di dare un'occasione a questo. Poi il volume terzo e conclusivo di Escape Journey, sono piuttosto incazzata perché questo volume è una sottiletta e costa come i due precedenti che erano dei mattoni, grazie J-Pop. E il primo volume di un altro yaoi che è Cast Heaven, di Cise Ogawa. Per la Star Comics, infine, ho acquistato un po' più roba in realtà, partirei dai due shoujo che ho acquistato, che sono i volumi 14 rispettivamente di Yona la principessa scarlatta e di Tsubaki Cho, Lonely Planet. Questo oltretutto è il volume conclusivo della serie, non so se si era notato dalla copertina spoiler. Poi il volume numero 12 di Cesare, il creatore che ha distrutto, questo se non sbaglio è un seinen, vabbè, comunque. E poi una scarrellata di tutti gli shonen di Casa Star, partendo dal volume 9 della nuova edizione di Lamu, il volume numero 7 di Summertime Rendering, il volume 94 di One Piece, il volume 35 di The Seven Deadly Saints, il 18 di Gintama e il 36 di Haikyuu. E niente, questi erano gli acquisti che ho fatto durante il mese di giugno. Fatemi sapere in un commento che cosa avete acquistato voi, se seguite qualcuna delle serie che seguo io. E niente, vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per seguire Meran, sia su Facebook che su Instagram che su Telegram. Detto ciao, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Bye, bye!